Ciao ragazzi, buonasera, sono un gestore tipista che sta qui in Campania, quello che sta chiedendo il papà di quel ragazzo che mi piange il cuore soltanto a pensarlo, Fortini, chiede di togliere parecchi ragazzi per la strada che fanno uso di stupefacenti, chiede di far fare sport che può stare tranquillo, sicuro e quindi non avere problematiche di albero oppure altre cose che impediscono, omologazione fatta in un certo modo, quindi automaticamente sta chiedendo di portare salute mentale e salute fisica a tutti i ragazzi della vostra zona di Valtellina, non sta chiedendo soldi, sta chiedendo se è tanto che di togliere i ragazzi dalla strada e forgiarli, di farli diventare dei veri uomini, che sta chiedendo? La salute per i vostri giovani, quindi non lo fermate, è un grande, un bacio ragazzi, ciao Max!